Rosati Coralietti, Terminillo Riccardi Eccoli, eccoli che vanno! Partiti! E' in vantaggio Valdarno davanti a Charlie Boy, Moncadieri, Schambold, Corallo Bambù, De'Aerish Ionca, Locappati e Lexington Bay Dopo 200 metri di corsa passa Schambold davanti a Valdarno Moncadieri, Bridge Hopilif, Corallo Bambù all'inizio della curva E' in vantaggio Schambold davanti a Bridge Hopilif, Valdarno, Corallo Bambù, Moncadieri, Charlie Boy, Locappati, De'Aerish Ionca e Lexington Bay Poco prima dell'ingresso di Tura è in vantaggio Schambold davanti a Valdarno, Bridge Hopilif e Corallo Bambù I cavalli entrano in dirittura con Schambold in leggero vantaggio lungo la corda attaccata all'esterno da Bridge Hopilif Seguono Corallo Bambù, De'Aerish Ionca, Valdarno, Locappati è in vantaggio Bridge Hopilif davanti a Corallo Bambù Schambold, Charlie Boy e De'Aerish Ionca è sempre in vantaggio Bridge Hopilif davanti a Charlie Boy e Corallo Bambù Bridge Hopilif, il numero uno Alessandro Fiori in sella, fa valere alla fine dei giochi le frequentazioni forse leggermente migliori di quelle che potevano vantare gli avversari Si ritrova rientrando dal 2 di gennaio e lo fa navigando benissimo sul terreno, questo è il dato significativo Per qualità forse poteva essere il migliore Charlie Boy, del quale si era discusso in presentazione, chiude dal secondo posto davanti a Corallo Bambù che è il numero 3